Siamo al Monviso Sporting Club in compagnia di Claudio Santoro, uno dei primi giocatori del torneo di tennis. La prima domanda che gli sottoponiamo è come è andata la partita e quali aspettative ha per il torneo. La partita è andata bene, ho vinto 6-3 e 6-2, è stata un po' sudata però l'ho portata a casa. Adesso il prossimo turno incontrerò uno bravo, noi ce la giochiamo e poi vediamo come va a finire. Da quanti anni è che pratichi questo sport? Da 15 anni più o meno, un bel po' di anni. Perfetto, abbiamo quindi un atleta in carriera proprio. Parolone in carriera. Allora aspettiamo poi per la prossima intervista, per la prossima partita e grazie, grazie mille.